FIORENTINA E CAGLIARI Lo bello oggi festeggiava quasi un primato, quello delle 261 partite arbitrate. I guardalini negli spogliatoi gli hanno perciò consegnato una medaglia d'oro ricordo. Si entra in campo sereni ma il nervosismo affiora abbastanza presto. Due minuti e Rizzo viene atterrato con questo sgambetto, punizione senza esito ma Fiorentina subito meno mata perché Rizzo risentirà della botta al braccio sinistro. In serata una radiografia ha escluso fratture. Che il Cagliari sia pericoloso lo si vede dopo sette minuti. Punizione di Nenè, testa di Riva e gol ma l'arbitro annulla per carica al portiere. Lo stesso Riva tre minuti dopo su punizione obbliga Superchi a un intervento difficile. La Fiorentina si spinge in avanti, c'è un fallo su Longoni e la punizione di Rizzo viene respinta, corta da Albertosi, libera martiradonna. E al quarto d'ora la Fiorentina potrebbe andare in gol con Chiarugi che sbaglia solo nella conclusione. La partita fin qui è sostanzialmente equilibrata. Al ventesimo c'è questa spinta di Rizzo al terzino Gignoli. L'arbitro decreta il rigore, ha molti sembrato eccessivo. Ecco l'azione del fallo e il rigore realizzato da Riva. Il nervosismo aumenta, ripicca in campo, azioni spezzettate. Lo Bello cerca di tenere in pugno la situazione. Sul piano della cronaca e su quello tecnico meglio sorvolare e passare al secondo tempo. E nel secondo tempo la partita sembra promettere assai meglio. Si copre il Cagliari e si affida al contropiede. La Fiorentina incomincia a premere sperando di raggiungere gli avversari, ma deve fare molta attenzione perché il lavoro di Spola di Domenghini, sorretto dalla intelligente interdizione di Nenè, dagli slanci provvisi di Cera, sono un pericolo con Riva scattante su ogni palla. Al settimo tuttavia la Fiorentina ha una bella manovra. Da Chiarugi a Desisti, scambio con Amarildo, gran tiro e gran parata di Albertosi che devia. Continua a premere la Fiorentina. Al nono Merlo va a terra. Lo Bello è per la simulazione di fallo e lo ammonisce. Al dodicesimo da Desisti a Chiarugi e ancora Albertosi in evidenza su un tiro dell'ala. Ecco, è il diciannovesimo, una bella dimostrazione del contropiede del Cagliari. Apertura di Cera sulla destra per Riva. Soltanto una grande parata come quella di Superchi evita il gol. Replica Riva e risponde ancora con un bel intervento su Perchi al ventitreesimo. Al venticinquesimo esce Merlo ed entra Mariani. Il Cagliari ora sta completamente coperto e al ventinovesimo lunga mischia risolta da Albertosi. Il gioco non cambia faccia. La Fiorentina premi ma il Cagliari controlla con vigore e con lucidità le azioni spesso confuse degli avversari. In seguito ad una discussione per un fallo di mano di un difensore cagliaritano protestano i viola. Gioco fermo, si incomincia con i calci e si finisce a pugno. Lo sport. Amarildo e Martina Donna sono di già amici anche se espulsi. Al quarantinesimo ecco esposito stretto fra Riva e Nenè. Il pubblico è per il rigore. Lo bello è per il calcio a due in area. E subito dopo l'azione del gol di Chiarugi annullato per fuori gioco di posizione di Mariani. E' lo sfortunato pelo nell'uovo, sfortunato per parte viola, colto da un arbitro che ha visto tutto. Anche noi dall'alto avevamo avuto una diversa impressione sul comportamento di Lo bello. La Moviola gli ha dato ragione. Se dovessimo entrare nel merito potremmo dire che c'è stata una severità eccessiva nel decretare il rigore che ha propiziato l'unico gol, quello decisivo, per il Cagliari. Un Cagliari che ha vinto contro una squadra che non avrebbe meritato di perdere.